Continua a Nocera il dibattito sulla possibilità di costruire un sito di compostaggio nell'area di Fosso Imperatore. Il comune ha individuato per l'avviso pubblico regionale come possibile sito di costruzione una superficie della zona industriale di circa 30.000 metri quadri. Sul sito di Fosso Imperatore serve chiarezza per gli imprenditori, così ha scritto Gigi Vicinanza della Cisal Metal Meccanici Nazionale, intervenendo a difesa degli imprenditori che hanno investito nell'area industriale di Nocera Inferiore. La fuga in avanti del comune non è concepibile in un momento dove le aziende vanno sostenute. Se da un lato il comune stanzia fondi per la ripresa, dall'altro lato non può agire autonomamente. Autorizzare un sito di compostaggio è una scelta da ponderare con gli imprenditori, poiché a rischio c'è la tenuta economica della città. Vicinanza dunque chiede all'ente di farsi portavoce per un incontro con le aziende e i rappresentanti dei lavoratori. So che non è intenzione del comune mettere in difficoltà le imprese già in crisi in questo momento particolare che stiamo vivendo. Ecco perché va sgomberato il campo da ogni equivoco se organizzi un incontro con i rappresentanti degli imprenditori e di sindacate a tutela di chi vuole il bene dell'area industriale di Fosso Imperatore. Il sindaco Torquato ha già precisato ai nostri microfoni che si arriverà alla decisione finale nel momento in cui si avrà la certezza che l'impianto sarà funzionale ed utile alla città nel pieno rispetto dell'ambiente. Grazie a tutti.